Musica Arriva il divieto di sosta in via Cupacamaldoli a Torre del Greco. Un provvedimento a firma del dirigente del nono settore di Polizia Locale e Protezioni Civile, Salvatore Visone, dopo le criticità segnalate dall'assessore alla NU Cinzia Mirabella, a seguito di numerosi video denuncia dei cittadini. Una strada pericolosa e a rischio cadute resa ancora più scivolosa dai liquidi presenti sulla carreggiata per le operazioni di trasbordo non a norma. L'ultimo incidente solo pochi giorni fa. Il provvedimento infatti nasce in considerazione del fatto che via Cupacamaldoli è una strada attualmente a doppio senso di circolazione, le cui caratteristiche strutturali non consentono adeguate condizioni per la sosta dei veicoli, nonché al fine di favorire la circolazione degli utenti della strada e garantire la tutela della pubblica incolumità. Con l'ordinanza dirigenziale del 28 luglio si istituisce in via Cupacamaldoli, nella direzione da via Nazionale a via Sotto i Camaldoli, divieto di sosta e fermata H24, nella direzione da via Sotto i Camaldoli a via Nazionale, divieto di sosta H24. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS